tempo fa il biellese era infestato da orde di briganti prepotenti e feroci senza alcuna pietà per nessuno giro di re fiabe leggende della tradizione popolare italiana narrate da maurizio mosetti buon ascolto il brigante dalla mano muzza tempo fa il biellese era infestato da orde di briganti prepotenti e feroci senza alcuna pietà per nessuno i biellesi erano terrorizzati e così spesso si recavano ad implorare la madonna d'europa un giorno mentre tutti erano partiti in pellegrinaggio verso europa i briganti ne approfittarono per scorazzare nel paese indisturbati in una delle abitazioni era rimasta sola una giovinetta d'un tratto uno stridio allegrate della finestra fecerà gelare di terrore la poveretta qualcuno stava assegando l'inferriata e ben presto il ferro avrebbe ceduto disperata la ragazza vide l'ascia di suo padre appoggiata al camino afferrò silenziosamente il manico dell'arnese e quando il brigante strattonata l'inferriata allungò la mano verso l'interno l'ascia si abbatté sulla mano con un colpo preciso un grido di belva ferita si levò nella notte mentre la mano mozza cadeva pesantemente sul pavimento della cucina in una pozza di sangue la pagherai gridò il brigante dileguandosi nella notte la ragazza esplose in un pianto di rotto ma cercò di consolarsi pensando che avrebbe potuto riconoscere facilmente il brigante dal moncherino il tempo passò e il raccapricciante episodio riaffiorava a volte come un incubo dai contorni indefiniti alla fanciulla piaceva danzare e alle sagre paesane i giovanotti facevano la gara ad invitarla un giorno giunse un bel giovane forestiero elegante come un signore e con le mani inguainate la fanciulla danzò con lui tutta la notte e al termine della festa il forestiero chiese alla sua mano una sottile inquietudine velò i pensieri della giovinetta ma l'idea di diventare una castellana servita e riverita la lusingava il padre inizialmente era turbato e indeciso ma alla fine acconsentì alle nozze per il bene della figlia manderò domani stesso una carrozza a prendere la sposa disse autoritario il forestiero io intanto la precedo al castello per preparare le nozze l'indomani puntuale arrivò la carrozza tutta nera con ricchi freggi d'oro anche il cocchiere era nero e scuro come il male la fanciulla indossò il suo abito più bello e salì sul cocchio dopo aver abbracciato il padre i cavalli al galoppo si allontanarono in fretta dal paese per avviarsi verso strade sconosciute la carrozza penetrò in una stretta gola fra i monti e si addentrò fra rocce e boschi non c'era anima viva pareva un posto da lupi o da briganti un'oscura inquietudine cominciò ad impadronirsi della fanciulla un turbamento vago presago di sventura la corsa si faceva sempre più opprimente ad un tratto le apparve il castello in cima ad un'altura tetro e minaccioso sentinelle armate sino ai denti appostate tra le rocce facevano la guardia nell'ampio cortile passato il ponte levatoio la tendeva il castellano si inchinò alla fanciulla e la presentò ai suoi uomini gridando ecco la sposa poi rapido sfilò il guanto dalla mano destra e le mostrò il moncherino la sospinse quindi in una sala del castello tra risate di scherno e battute grossolane una vecchia attendeva seduta vicino ad un grosso focolare accendi il fuoco le ordinò il capo con feroce allegria e scalda il calderone colmo d'olio quando bolle chiamami ci sarà da divertirsi la vecchia ubbidì senza dire una parola allora la ragazza cominciò ad implorare intensamente la vergine d'Europa d'un tratto nel silenzio si accorse che la vecchia russava con il mento appoggiato al petto terrorizzata ma lucida scivolò fuori dalla sala attraversò alcune stanze fino a quando si ritrovò fuori in un piccolo cortile interno sul muro di cinta c'era una porticina l'aprì facilmente e si ritrovò nella boscaglia riflette un momento se si fosse avventurata lungo il sentiero le sentinelle l'avrebbero riacciuffata senza alcuna fatica se si fosse allontanata attraverso i cespugli si sarebbe inesorabilmente persa la ragazza era magra e così scelse di infilarsi nel tronco cavo di un vecchio castagno e attendere fino a che i briganti non avessero smesso di cercarla liudi gridare ed imprecare rabbiosamente passando vicino al suo nascondiglio per un tempo che pareva infinito le ricerche durarono tutta la notte finché i briganti parvero convincersi che non l'avrebbero più trovata allora lei quatta quatta uscì dalla cavità del castagno e fuggì rapida ed impaurita dopo alcuni giorni spinita dalla fame dalla stanchezza giunse fino alla soglia del palazzo di un nobile signore le porte si aprirono e il padrone impietosito decise di accoglierla e nasconderla ma intanto il tempo passò e piano piano la ragazza divenne imprudente ignara fu vista una mattina da un valandrino spia del brigante dalla mano mozza da quel momento l'uomo visse ossessionato dalla sete di vendetta un giorno di fronte alle porte del palazzo un carro carico di casse rischiò di ribaltarsi doveva essere riparato ma la notte era imminente così i conducenti ottennero il permesso dal padrone di casa di depositare le casse sotto il porticato del cortile fino all'indomani quella sera la ragazza non riusciva a prendere sonno ripensava inquieta a quelle casse tutte piene di fori praticati da mano umana irrequieta si avvicinò alla finestra le mancò quasi il fiato quando riconobbe la voce del brigante dalla mano mozza l'aveva ritrovata dunque e certo era pronto a compiere una strage prontamente la ragazza sgusciò fuori dalla stanza e corse ad avvisare il padrone che armò i suoi servitori i malandrini colti di sorpresa nelle casse in cui si erano nascosti furono sconfitti senza fatica e chiusi in prigione e fu così che il biellese finalmente venne liberato dai briganti che tanto a lungo l'avevano infestato giro di re fiabe leggende della tradizione popolare italiana a 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